Nella casa di Giulietta Romeo, peccato però che non fosse gratis. L'ingresso alla casa costa 6 euro e io ho pigliato il biglietto da 7 che comprende anche l'ingresso alla tomba di Giulietta e al museo degli affreschi. A essere entrati qua dentro il museo siamo davvero pochi. Sotto a fare foto c'è tanta gente ma quando si tratta di dover pagare un biglietto da 7 euro ovviamente molti ci pensano. Si respira davvero l'odore dell'antichità.